Sono iniziate correnti di emigratorie e immigratorie che in assenza di un accelerato processo di sviluppo che abbracci tutta la riva sud del Mediterraneo sono destinate a gonfiarsi in un modo impressionante e saranno delle tendenze inarrestabili e incontrollabili. Paesi con popolazioni giovanissime, i quali naturalmente vanno verso, come avete visto, vanno verso le luci, vanno verso le luci della città, se noi non accenderemo un maggior numero di luci in quei paesi. In realtà le grandi nazioni ricche del mondo non compiono, non sono ancora in condizione di compiere lo sforzo che viene considerato come lo sforzo necessario per ridurre queste distanze. Le distanze sono assai grandi, sono abissali ed è questa, ripeto, la questione sociale del nostro secolo.